A Cornigliano, quartiere di Genova, fino al 2007 sorgeva una vecchia acciaieria che è stata poi riconvertita. Più salute e meno posti di lavoro. Come si vive lì oggi? E' andato a vedere il nostro corrispondente Alberto Pastanella. Ecologicamente è meglio adesso, però prima c'era tanto lavoro, era diverso. Adesso si vive bene, manca solo il lavoro. Inquinamento ai posti di lavoro. Di questo parla chi ha vissuto per anni accanto alle acciaierie di Genova Cornigliano. Prima i Talcider, ora Ilva. Questa era una zona ad alto rischio ambientale con un'incidenza di tumori di 4 volte superiore alla media nazionale. La svolta è avvenuta nel 2007, quando gli altoforni furono abbattuti. Da allora l'inquinamento è diminuito drasticamente, anche se la fine della produzione dell'acciaio, ora vengono trasformati solo quei tondini di metallo provenienti dallo stabilimento di Taranto, il cui approvvigionamento è necessario per continuare la produzione anche qui, è costata molti posti di lavoro. E' vivere a Cornigliano adesso con l'Ilva? Ah benissimo, si vedeva che la giù non sapevano neanche chi ci sia a questo punto, non ci dà nessun fastidio. Ora qui a Genova Cornigliano l'aria è pulita, ma in molti si ricordano ancora le lotte per far cessare i fumi prodotti dallo stabilimento. Carbone fino al livello del marciapiede, non si riusciva a indossare una camicia bianca o qualcosa di bianco. C'era qui l'infermeria, tutti i giorni eravamo in infermeria perché camminando cadeva scaglie di carbone e di ferro negli occhi. Mi ricordo il grosso fumo che c'è stato a Cornigliano, quell'aria tutta rugginosa. Dico la verità, mi dispiace i 3.000 operai che sono stati disoccupati, però si sta bene adesso. Quindi fra il lavoro e la mancanza di chiudamento quale sceglie? Al 50%. È possibile tutelare la salute dei cittadini e al tempo stesso salvaguardare i posti di lavoro? Sentite alcune autorevoli opinioni. È merito della magistratura Tarantina aver sollevato il velo su una situazione drammatica, terribile, che andava avanti da decenni. Un pezzo dell'industria del passato è accaduto a lui come è accaduto a Marghera. Si sono costruite imprese che avvelenavano l'ambiente e danneggiavano la salute dei cittadini. C'è una responsabilità anche da parte delle istituzioni, della politica, delle forze sociali. Già si stava cambiando rotta a Taranto. Ora bisogna accelerare, bisogna andare nella direzione di una bonifica degli impianti, di produzioni che non abbiano questo impatto sull'ambiente e sulla salute. Ma la chiusura non è una soluzione. La chiusura è una sconfitta. Queste produzioni migrerebbero in luoghi dove ci sono meno controlli e anche dal punto di vista sanitario. Bisogna ricordare, per esempio, che nelle nostre città per le polveri sottili muovono, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, oltre 8.000 persone all'anno. Che facciamo? Le chiudiamo o ci battiamo per renderle più vivibili e più belle? La situazione dell'Ilva è drammatica. In questi giorni a Taranto c'è un clima decisamente più caldo rispetto a quelle che sono le condizioni climatiche normali del mese di agosto. Ci sono dei responsabili, questo è palese, ma è ingiusto che le responsabilità di taluni vengano pagate da un'intera comunità. La nostra Costituzione riconosce il diritto al lavoro e il diritto alla salute ed è compito della politica, non solo della politica, fare in modo di rendere esigibili ambedue questi valori, sia per i lavoratori, sia per coloro che vivono in siti particolarmente inquinanti, come quello di Taranto. È il momento anche di azzerare le polemiche rispetto a quello che è un percorso giuridico, che se non altro ha avuto il merito di alzare l'attenzione rispetto a una situazione preoccupante come quella tarantina. Infine respingo l'idea espressa da alcuni rispetto al fatto che i provvedimenti di questo tipo possono allontanare investimenti internazionali. Credo che, così come fu per la sentenza della Thyssen, sia un concetto assolutamente sbagliato. Il nostro Paese ha la necessità di lavoro, ma lavoro buono non lavoro ad ogni costo. Anche il Tribunale del Riesame ha confermato il sequestro preventivo degli impianti ILVA, perché si considera che attualmente le produzioni creano danni alla salute interna ed esterna dalla fabbrica. Allora il problema per arrivare al dissequestro e continuare la produzione è che l'ILVA decida di fare gli investimenti che deve fare, per rimettere in sicurezza le produzioni. Questo è l'obiettivo. Noi non consideriamo utile in questo momento fare scioperi contro la magistratura, perché le leggi nel nostro Paese vanno applicate, perché il diritto al lavoro deve coniugarsi con il diritto alla salute e alla sicurezza. L'intervento del Governo, della Regione e delle istituzioni è importante. Ci sono ritardi di anni da recuperare, serve la responsabilità di tutti ed è il momento dei nervi saldi, però di fare le cose concrete. E mi permetto di dire che ILVA innanzitutto deve tirare fuori i soldi e fare gli investimenti necessari.